Esageriamo un po' Esageriamo un po' Via Canalazzo 49 Questa è la sede di Asia Jam Che oggi Fanno la festa Del decimo compleanno Da quando hanno aperto E io voglio fare un documentario Che racconti questa Novità Grazie a tutti Allora questo è il primo festeggiamento che fate? No, questo è quello dei 10 anni, ogni anno ogni tanto lo facciamo, questo però è quello che sia un po' più importante di solito. Ascolta, io poi vorrei intervistare le persone per sapere la loro esperienza, avranno qualche problema, io lo diciamo magari, chi lo vuole, ok. A me c'è perché vediamo delle persone che un po' che hanno la prima casa e quando li invitiamo ritornano, ma ecco, e viene ancora tutta a noi. Ah no, no, non mi piace. Cos'è? Le esportanti hanno vita. Come non dice che è una prelea e non può fare il mantenimento, ma si può, però no. Allora, il materassino, avete visto che il telecomando ha i vari tasti? quindi c'è un tasto, un tasto apposta che dice ULF, che sarebbe il biomagnetismo, quindi basta non schiacciare quel forbocino e tutti lo possono usare. Allora, i vecchi materassini tutti hanno il tasto per accendere il biomagnetismo, tutti. Quindi, ha quattro tasti. Il primo tasto accende, il secondo tasto alza la temperatura, poi c'è il tasto che accende i botoni e il tasto che accende il biomagnetismo, perché il materassino è fatto per poter stare nel letto di chiunque, anche di chi è il pacemaker, perché altrimenti, poveretti, uno già è sfortunato che è il pacemaker, poi ha la doppia sfortuna di non poter dormire più sul materassino, sarebbe troppo, eh? E' una cosa che verrà più buona, eh? E' quello che prendete il biomagnetismo, che la mattina, quando si può alzare, si golla. Cos'è la cosa? Un po' chi ha scritto le lettere, eh? C'è il signor, c'è qualcuno che si vuole andare in quantissimoniazza o riprende per non si può essere ripreso. Allora, se qualcuno vuole raccontare la sua storia, che vuole essere ripreso, siccome questo signore fa dei video, che poi metterà in internet, se qualcuno vuole far sapere la sua storia, che gli altri ha voglia di condividerla con gli altri, può venire qua e raccontarsi. Miriam, venga. No, aspetta che venga il mio dottore. Se la dico davanti a lui e non dico una fuggia. No, venga qua. Quello che dico, dico la verità. Il conto è arriva tardi, Miriam. Ma no. No, arriva tardi. Venga qua, eh? Che così mi aiuta a parlare. Buongiorno. Miriam. Va bene. Allora, ti saluto a tutti. Tutti. Niente, cosa vi devo raccontare io? Che loro lo sanno già, già detto tante volte. Allora, c'è la mia amica Augusta che mi diceva, perché io ho sempre male, spendevo un sacco di soldi e non sapevo cosa fare. E lei mi diceva, che andavamo a cantare insieme, ma vieni lì dove vado io. Non ci ho creduto. Un giorno vado dal mio dottore che si chiama Bonetti, che fra un poco è arrivata, e sono andata lì che ero incazzata nera. Allora ho detto, adesso basta. Io dei soldi da spendere non ne ho più. Perché? Spendi i soldi per fare la piscina. Spendi i soldi per fare i massaggi. Spendi i soldi per fare. Non sapevo più cosa dovevo fare. Mi andavo alla mattina e ero piegata in due. Mi volevo due o tre ore prima che mi attrezzassi un pochino. Io capisco, ho molto seno, allora avendo molto seno tendo ad andare in avanti e la schiena nel seno. E di fatto ho una forte articolazione alla schiena. Il mio dottore ha detto, cosa devo fare? Io dico, non lo so, pensaci tu, perché io non voglio più sapere lì. Dei soldi non ne ho più, ma hai mandato all'ergastolo proprio. Perché non ho più una lira da spendere per i dottori, per questo, per quest'altro. Vedo che si alza e mi va a prendere uno di quei fogliettini. Dice, vai qui, prova, non spendi niente. E poi dice, mi saprei di me. Io, come esco dall'opulatorio, vengo subito qua. Io dico, devo andare a vedere subito, pensa a te. E poi qui mi sono presentata, la città, non mi ricordo chi. Ha detto, dice chi l'ha mandata, come di solito chiedono sempre. Allora dico, mi ha mandato tipo il mio dottore, il dottor Bonetti. Oh, il dottor Bonetti, dice, ma è stato qui sette mesi a conoscere le nostre attrezzature per poter dopo mandare i suoi pazienti. Dico, non mi ha mica detto niente, eh, che lui è stato qua. E andò qui, vabbè, poi sentivo parlare. Quanto tempo è che tu sei qui che vieni a un anno, con l'altro 8 mesi, con l'altro 2 anni. A me mi è scoppiata la questa. Dico, ma io non ce la faccio mai. Non ce la faccio. Perché io sono una persona che non sono costante nelle mie cose. Dico, come faccio a durare tutti i giorni e andare là? Dico, con il male che ho, guidare la macchina e fare, non ce la faccio. Insomma, in poche parole ragazzi, io per 3-4 mesi sono venuta. Quando mi sdraiavano in quel lettino, vedevo le stelle. Andrea o le ragazze mi aiutavano a stendermi e mi aiutavano a tirarmi su perché io non ce la facevo proprio. E di lì, piano piano, vedevo che alla mattina mi alzavo, uscivo a stare un po' più dritta, non ero piegata in due. Ho detto, mi sembra che qualcosa qui cambia. E ora venivo, venivo, ma 3-4 mesi. Dopo ho detto, faccio una risonanza, il mio dottore me l'ha richiesta, e di lì vedono che io alla schiena ho una porta atronica. Dice, signora, dice lei. Dice, se non fa qualcosa, dice, va a finire in una sedia all'hotel. Ha detto, guarda, che io sto facendo questo, questo e questo. Dice, fado e fa bene, dice a farlo. Sono andata da soldati, anche lui, gli ho detto, guarda, che io sto facendo, vi ho fatto vedere la mia risonanza, anche lui ha visto che avevo bisogno di massaggi, di piscina, di tutto e di più, insomma. Ha detto, guarda, che io sto già tanto in un negozio, sto facendo, sto facendo i lettini che passano dalla pietra di carta e ti passa dalla cervicale fino alla schiena. Dico, sento male, però vedo qualche miglioramento. Allora dice, allora continua e dice andare lì. Io adesso, dico, dottore, non ne ispetto più. Mi aveva dato lo zaino da mettermi come... Come un busto, che era tipo lo zainetto da tenere indietro. Poi mi avevo ordinato la piscina, i massaggi. Ho detto, dottore, no, io non ho detto niente, veramente. Ho lasciato perdere tutto, dico, io continuo ad andare all'Azade e ho calcolato, ho chiesto quanto volevano un massaggio. 60 euro l'uno. La piscina volevano quello che volevano. Lo zainetto volevano 500 euro. 400, non c'è, 4. Allora io ho detto no. Io con 1.000 euro ne aggiungo altri 600 e mi compro il materassino. E io lì lì mi sono comprato il materassino. Da quando ho operato il materassino, la mia è diventata un'altra persona. Tanto vero che adesso mi sono comprata anche la copertina, eh. Perché a pomeriggio mi faccio la copertina io, dopo male la metto davanti e non mi faccio fare mai. Alla sera la faccio fare a mio marito, che lui è legato di queste cose, eh. E' qui presente, ma... Però adesso, senza che io le dico niente, alla sera lui si drae nel suo divano, Dice, vieni a accendermi. Dice, la copertina. E io accendo la copertina. E se ne sta lì, 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 lì. Luciano, come sta sulla copertina? Dove? Oh. No, ho paura che ci mettermi città. E fa per città. Allora, ragazzi, sono qui da quasi sei anni. In aprile faccio sei anni. E sono contenta di essere qui, perché ho trovato dei miglioramenti che da nessuna parte li trovavo. Tanto è vero che io non ci crederò neanche. Perché quando me l'ha detto, vieni, vieni. Però, da quando mi ha mandato il mio dottore, lascia stare le prove persone che sono da fargli un coso. Un coso con me. Sono bravissime. Educate, ti aiutano. Non ti chiedono niente. Non ti chiedono niente. C'è tanta gente che non vuole venire per paura di spendere. Dico, guarda, che loro non ti chiedono nemmeno come ti chiami di cognome. Ti chiamano, ti vogliono sapere solo il nome perché giustamente se ti devono chiamare sanno come ti chiamano. Dico, altrimenti loro non vogliono sapere né il numero di telefono, né il cognome, niente. Se tu vuoi acquistare, acquisti dopo che vedi i tuoi benefici. Perché anch'io ho comprato, dopo quasi un anno, perché ho portato mia nipote qui per tutta l'estate e siccome soffrivo di reflusso caldico, Intel mi ha fatto fare la prova dell'Axlo e loro ho detto io. Io e mia nipote soffrivano di queste cose. mia nipote aveva otto anni, alla notte si svegliava furlando, piacendo. Mamma dice, mi è venuta l'acidità. Sua mamma alza che non sapeva cosa fare, fino a che non l'ha portata da una dottoressa e gli ha detto qui ci vuole un partito alla bambina. Otto anni. Allora quando abbiamo fatto la prova tutte l'estate, lei è venuta qui, ci faceva il lettino, aveva 11 anni, faceva il lettino e il guai se non lo mantivo giù. Il primo giorno si era incazzato perché io non glielo ho fatto fare. Allora quando abbiamo fatto la prova dell'acqua ne prendevo un litro, io un litro la donna alla bambina. Lei ha fatto la prova dell'acqua, l'ho fatto anch'io per tre settimane. ci sembravamo un'altra persona perché a me riprendeva anche me l'acidità di notte. Io che canto, mi bruciava le corde vocali. Io la mattina mi ha fatto, non avevo più voce. Sembrava che le sai quando ti va via la voce, sei l'auca. Mi bruciava le corde vocali, non sapevo cosa parlava a notte. Io dopo aver fatto il vento, l'acqua, non so cosa voglio dire che le brucia. E la bambina un guai. Guai se manco alla sera a portare i 5 litri di acqua. Tutte le sere la Miria, per la mia famiglia, le bevono tutte e tre. Mamma, babbo e figlia, bevono la sua acqua alcalino. Gli ho regalato il lettino perché lo possono fare a casa. Io dico che più di così non potevo farlo, sia per me e per i miei. E quando manco che vado in montagna e non hanno l'acqua, nonna, quando è che viene a casa la sequia? Quando è che viene a casa che ho bisogno di bere l'acqua? Vedete voi, insomma, io con questo vi ho detto quasi tutto. Io non mi muovo più David. Mi dovrà accompagnare il mio marito se ce la fa quando io non ce la porto. perché io non voglio finire in una sedia a rotelle, come l'ha detto il mio dottore. Ha detto, se tu non andavi all'Azage, tu a quest'ora eri in una sedia a rotelle. Quando tu vedi una persona su una sedia a rotelle, tu devi pensare solo questa qui. Ho avuto un vicomento oppure c'è una porta altruosa. Mi può prendere la legata, l'altruosa, la schiena, come l'ha detto. Dice loro, dice, beh tu, David, andate a finire io. Allora, siccome io non voglio andare a finire in una sedia a rotelle, grazie a loro tutti i giorni. Ciao! Parole povere, eh, perché io non sono... Dopo, se vuoi che faccia un'intervista per sapere la testa un'altra. Ma io non posso, no, è perché io non posso portare bene. Sapete cosa è bene? Sapete che tutti i giorni che vengono qua... Posso parlare la soluzione? Sì, 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 mettere la soluzione. Quando arriviamo qua, tutti abbiamo la speranza di poter vivere la vita in maniera diversa. Questa è forse la cosa più importante, la caratteristica più importante del negozio asico. Il fatto che chiunque entra sa che ha la possibilità di star meglio. Non è una cosa che succede tutti i giorni. Grazie. 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 Allora, gratis è la cosa meno importante. Perché guardate che tanti di voi, se qualcuno dietro alla strada del residente hai un problema grande, sì, 3.000 euro ti faccio passare. Prima di entrare qua in negozio. Io penso che forse tutti avresti espriscono quei 3.000 euro, eh, per cercare di star bene. Poi il fatto che noi vi diamo l'opportunità di provare senza neanche dover pagare, poi è una cosa diversa. Ma già è il fatto di sapere che qui dentro c'è una soluzione. Per qualunque sia il vostro problema. Che può essere il mal di schiena, può essere il mal di gambe, può essere la tristezza, può essere la solitudine. Quanti amici vi siete fatti con questo negozio? E quanto sono importanti gli amici per star bene? E quanto è importante essere ascoltati? Cioè, in questo negozio non è che mettiamo a posto solo le schiene? No, no. Anche le teste. Anche le teste. Anche le teste. Anche la testa. Anche cosa? La testa, ragione. Oltre la testa e la schiena cosa mettiamo a posto anche? Anche il sistema nervoso. Lo dico, lo dico. Lo dico, lo dico. Lo muore della persona. Eh. Cosa faccio io che vengo qui un'ora prima? Eh. Vengo a rilassarmi qui. A rilassarmi i nervi e la tensione che ho lavorato con a quel momento. Vengo qui e mi rilascio. Faccio andare avanti gli altri e io faccio solo. Perché mi piace stare qui ad ascoltare quello che dite e quello che dite alla gente. Perché questa signora ha detto una cosa molto importante quando ha parlato dell'umore. Noi qui vediamo tante persone che entrano e sono tristi. Eh? Ma per forza. Ma anche quando voi vedete qualche persona che si arrabbia troppo, che magari è un po' troppo cattivella, non ci chiediamo magari perché succedono queste cose. Quando è che uno diventa insofferente nei confronti degli altri? Quando sta male. Quando si sente solo. Quando non si sente ascoltato. Per quello che fa bene finire qua. Perché siete tristi con i vostri problemi. Sembra che i nostri problemi siano proprio solo i nostri. Che non ci possa essere mai nessuno che ci ascolta. Che è disposto a condividerli con noi. Ma invece qua si incontrano persone che hanno cura. Noi si fanno amicizie. Che non conoscevi. Che non conoscevi. Mi senti parlare. Dicono le loro opinioni. Questo vuol dire molto eh. Io che poi mi piace ascoltare. Più che parlare, mi piace molto. E' perché le famiglie di una volta come erano numerose. Ci si fermava intorno alla tavola. Si stava a chiacchierare. Si passava il tempo. Ci si raccontavano un sacco di cose. Al giorno d'oggi invece fuori di qua siamo sempre tutti di corsa. Io credo che posso dire due parole in più. Perché ho rinnovato. La posso far alzare? Che così la vengono in passo. Vengalo con me. Ma voglio anche Andrea. Andrea, poi vieni qua. Eh vuol dire che funziona. Sei pieno di gente. Poi vengo ad andare a me. Quando sono venuto io. Praticamente voi altri, ben santo, non c'eravate nessuno. Ho rinnovato questo locale. Ho rinnovato questo locale. E la cosa sorprendente. E ci sono qua dopo dieci anni. E perché voglio ringraziare soprattutto la vostra frequenza che avete attuato dopo di me. Perché sono convinto che avete avuto quello che ho provato io. Cioè che non sono più quella persona che ero quando dieci anni fa. Io mi facevo la bellezza di quattro massaggi all'anno, alla schiena, alla cervicale. E quindi sono stato uno di quelli che Andrea non me lo voleva dare il lettino. Perché io dopo, quando ho conosciuto che era una manna per la mia salute, l'ho pregato a darmi le pino. Sapete quanto ho assistito per non darmelo? Perché gli piaceva che fosse venuta qua a dire, è vero, la propaganda e come mi ero trovato. E' la prima persona che è entrata in questo negozio, questo signor. E' stata la mia vita. Grazie signori, frequentate questo locale. Io adesso vi faccio conoscere il nostro direttore, Emilia Sottini. Qualcuno lo conosce e qualcuno forse no. Buonasera, buon pomeriggio. Ho messo la barba. Ho messo la barba. Non avrebbe piaciuto. C'è già cambiare, c'è già cambiare sempre. Poi bisogna capire se il cambiamento è bello o brutto. Però il cambiamento è bello perché ci tiene sempre sulla corda, no? altrimenti si diventa starci, si è monotoni. Invece la vita è bella per essere vissuta, goduta, in salute, in felicità, in gioia. E quindi questo cerchiamo di fare tutti i giorni con il vostro aiuto. Grazie, io non l'avevo conosciuto questo signore che è stato il primo. Quindi ha cominciato con... Il primo giorno che abbiamo aperto, vero? Con... Cos'era? No, il 7... Il 7 gennaio... Il 7 gennaio... Il primo è andato a aprile. Questo signore qui è quello che mi ha convinto a me di fare il massaggio. Perché io lo facevo e lui lo faceva. Stavo bene. E voi pensate... Come chiedere? Perché mio babbo quando cercava questo locale per affittarlo... Sua figlia è quello che ha affittato dall'agenzia che ha affittato... Allora... Così è nata la cosa, è nata. Sono passati 10 anni, eh? 10 anni. 10 anni. Io quel giorno lì c'ero... E non ho più... Abbiamo fatto l'inaugurazione... E non ho più... Abbiamo fatto l'inaugurazione... A pagamento! È bellissimo, è bellissimo. Una domanda... C'è qualcuno tra voi che non sa cosa è Asagem? Quindi siete tutti ospiti... Se non lo sai li diamo 10 costanti. Beh, no... Ci può essere che magari qualcuno è venuto accompagnato... E quindi... Beh, io non so molto... Io finalmente lo conosco questo... Quest'uomo di cui sento tanto parlare... E meglio no? Ecco, lui potrebbe essere uno di quelli che non sa cosa è Asagem... Lo so, lo so... Lo so, lo so... È quello che finanzia... È quello che finanzia... Vabbè, non sei contento? È contento perché vede sua moglie che sta bene? Scusate, i soldi che sono stati inventati a fare... Ha cambiato un po' di moralità... Eh? Mi lascia libero una mezza giornata... È diventata più tollerante... Si diventa... Si diventa più morbidi col passare del tempo... Ebbè, ma è così... Quando... Qui poi... Coinvolge anche le persone che ci stanno vicino... È una spirale negativa... E me che... Ci viene raccontata da voi tutti i giorni... E... 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 Questa cosa ci rende ancora più responsabili perché... Noi sappiamo bene... Che cosa significa prendersi un impegno... Sappiamo bene che cosa significa stare vicino alle persone che si avvicinano a noi... E non hanno idea di che cos'è Asia Gemma, no? Non hanno idea di che come... Di come funziona Asia Gemma... Non hanno idea di quello che gli succederà... C'è tanto timore... Ci sono tanti dubbi... C'è tanta paura... Per quanto diventa sempre importante da parte nostra... E quando dico nostra mi riferisco a noi... Noi gruppo... Noi comunità... Noi che... Rendiamo questo luogo vivo, no? Asia Gemma Renna... Non è... Non è un qualcosa che sta là... È il vostro punto di riferimento... Speriamo almeno... Questo è quello che... Noi crediamo... Con il nostro lavoro di fare tutti i giorni... Crediamo che sia il vostro punto di riferimento... Per poter... Giorno per giorno trovare... Sempre più riscontri... Sempre più conferme... Sempre più risultati... Che ci devono far capire... Che... Si può vivere meglio... Quello che ci resta da vivere... Ma ci deve anche far capire... Che questo è possibile... Con l'impegno... Ahimè... Troppo spesso... Sento... Di persone che... Pensano che... Il beneficio di un'attività... Poi io... Lo mantengo per tutta la vita... Non è così... Non è così... Noi il primo insegnamento... Che cerchiamo di dare a noi stessi... E quindi poi a voi... È che tutti i giorni... Tutti i giorni... Io devo... Fare qualcosa per me... Non posso scappare da questa... Da questa... Da questa... Da questa legge... Devo impegnarmi... E l'impegno... È ben ripagato però... È ben ripagato... Si insegna questo signore dopo dieci anni... Esatto... Si è ancora stancato... Esatto... Ed è la cosa bella che sono passati dieci anni... E quindi secondo quello che ci dicono lì fuori... Non dovrebbe essere così... Non dovrebbe funzionare... Invece no... Passano gli anni... E la vostra condizione... Migliora... Giorno per giorno... Mese per mese... Anno per anno... Quindi questo per voi... Deve essere quel... Motivo di riflessione... Che vi deve... Deve farvi vincere quella migrizia che ogni tanto ci assale... Deve farci vincere quel timore che ogni tanto ci viene... Quando magari... Nonostante il nostro impegno... Non stiamo vedendo i risultati che ci saremmo aspettando... Perché poi noi siamo fantastici... Perché passiamo dal... Non aver fatto assolutamente niente per noi... A 40, 50, 60 anni... E poi... Quando cominciamo a fare questa roba qua... E cominciamo a vedere i primi risultati... Siamo fretta... Siamo molto esigenti... E quando ci capita che ci avviene un raffreddore... Porca miseria... Mi sono ammalato... Asagem... E' una grande azienda... No... Ancora non vi diamo... Non vi possiamo dare l'immortalità... L'essere invincibili... Indistruttibili... E ritornare a essere... Ventenni... Trentenni... Morantelli... No... Dovete... Prendere... Il buono di quello che il vostro corpo... Oggi vi dà... Più vi impegnate... Più... Riuscite a... Creare consapevolezza... Più riuscite a fare sinergia fra le varie cose... E più riusciamo a dare forza al nostro corpo... Alle nostre cellule... Di vivere meglio... Io lascio sempre questa frase... Perché è un mio... È un mio mantra... No... Vivere meglio quello che mi resta da vivere... Vivere meglio quello che mi resta da vivere... L'ho adottato per me... Questo pensiero... Perché tutto parte di qua... Tutti i giorni mi faccio questa domanda... Come voglio vivere quello che mi resta da vivere... E dopodiché passo... A una domanda successiva... Cosa devo fare? Perché sapete... Dire... Bene... Sì è facile... Il complesso viene dopo... No... Cosa devo fare? E lì metto... Cerco di mettere in fila... I pensieri... E poi diventano azione... E questi pensieri che diventano azione... Diventano i risultati... Che io raccolgo... Man mano che vado nel piaggio della mia vita... E questo è per tutti... Voi comunque avete una vita da vivere... Come la volete vivere? Come volete che vivano la vita le persone che vi stanno vicino? Volete essere per loro determinanti? Volete essere per loro un punto di riferimento? Volete che le persone che vi stanno vicino... Vi possano riconoscere come qualcuno che è stato importante nella propria vita? Tutto questo è possibile... Il bene più prezioso sappiamo qual è... E' la salute... E' il benessere... I soldi ci possono servire per accorciare... Un po' la strada fra il raggiungimento di quello che può essere un miglioramento... E' quello che è il momento qua... Se qualcuno non è d'accordo... Può tranquillamente intervenire... Anzi a tal proposito visto che siamo in tanti... Ovviamente se avete qualsiasi tipo di domanda siete invitati a farlo... Non vergognatevi... Anche in questi casi non parlava mai nessuno... Io volevo iniziare... Volevo iniziare in questo modo... Siccome non diamo mai modo di fare delle domande... E le facciamo fare sempre alla fine... Ho detto... Oggi iniziamo a fare fare alle vedi... E vedete che si vendica cosa... Non ci sono domande... Oppure se ci sono domande... Anche strada facendo le potete fare... Io ringrazio ancora la presenza... E le bugie che mi hanno detto i direttori e Teleandrea... Che mi hanno detto... Non saremo tanti... Saremo pochi ultimi... E io comincio a portarmi attorno... E dico... Ok... Pochi intimi... Troppo non so dove li dobbiamo mettere tutte queste persone... Quindi come al solito... Uno pensa però poi... Ma è giusto che sia così... È giusto che sia così... Questo è un giorno... Deve essere un giorno... Importante... Perché sono dieci anni... Sono... Pochi negozi... Perché siamo un'azienda giovane... Lo sapete... Siamo nati poco tempo fa... Sono pochi negozi... Che oggi possono vantare questo traguardo... Dei dieci anni... E quindi... Per noi è stato anche doveroso essere presenti... Adesso passerò la parola... Ai proprietari dell'azienda... E... Perché per noi è veramente un motivo di orgoglio... Tutte le volte vedere... Come delle persone... Come... Ethel e Andrea... E con le loro collaboratrici... Tutti i giorni... Portano avanti... Con... Forza... Con amore... Con determinazione... Quello che è... A suo tempo... Era un sogno... Che poi è diventata realtà... Cioè... Quello di aiutare le persone... A poter scoprire... Che ci sono delle cose meravigliose... Che si possono fare... Raramente con poco... Raramente con poco... Se voi pensate... A quali sono... I grandissimi benefici... Che state avendo... Che state raccogliendo... E che vi stanno facendo vivere... Molto meglio... Quello che vi resta da vivere... Ma se analizzate... Realmente... Gli attrezzi... Che state utilizzando... Scopriamo che... Sono delle cose molto semplici... Ma nella loro semplicità... Sono eccezionali... E siccome anche noi... Siamo persone molto semplici... E quindi... Vogliamo mettere a vostra disposizione... La nostra semplicità... E speriamo che anche voi... Possiate... Fare questo... Verso tutte quelle persone... Che oggi purtroppo... Non sanno... E soffrono... Con poco... Potremmo... Veramente... Dargli un grandissimo aiuto... Quindi ricordatevi sempre questo... Il bello della comunità... Del gruppo è proprio questo... Poter essersi... Essere d'aiuto l'unico agli altri... E... Questo ci arricchisce tutti... Questo ci dà la forza... Come è successo a noi... Tanti anni fa... Questo ci dà la forza poi... Per poter andare avanti... Sempre di più... E sempre meglio... Sempre più forti... E sempre con più... Amore e condivisione... Di quelli che sono... I sentimenti... Allora... Amministratrice... Il direttore... Siete pregati... Di raggiungere... Il palco... Lascio nelle loro mani... Mi raccomando... Trattatemi bene... Partiamo... Per galanteria... Partiamo... Dalla donna... Grazie direttore... Buongiorno... Buongiorno... Benvenuti... Buongiorno... Allora... Io vorrei cominciare... Intanto... Con... Ne paro... Un fortissimo... Coloroso... Immenso... Applauso... Ai nostri... Direttori... Ed... Anche... Per i loro... Dieci anni... Di altro... Su forte... Dai... Applauso... E questo è fondamentale... Naturalmente... Un grosso applauso... Anche... Alle loro collaborativi... Eh sì... Perché... Asegem... Innanzitutto... Deve accogliere... Soprattutto... La gentilezza... E la disponibilità... Eh... Eh... Perché... Perché... Se uno è scolvuto... Praticamente... Eh sì... Menti... Se non si sente... Ah... Si sente... Perché... Che ne è successo per cui... Cioè... Allora... La prima cosa... Deve essere la gentilezza... La disponibilità... E poi... Magari siamo... Un po' anche... Antipatici... Perché... Noiosi... Quando non si ha bene... E vogliamo... Forse anche più di quello... E subito... Come diceva il direttore... Certo... Però... La loro pazienza... Disponibilità... E gentilezza... Questo... Ti fanno... Ti fanno bene... E dopo... Cominci... E dopo... Quelli... 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 Ecco... Quelli... Quelli... E poi... E questa... È la prima cosa... Di Asia... E... Infatti... Signora... Eh... Io lo dico sempre... Asia... Non è per tutti... Nel senso... Non è per tutti stare da questa parte... Certo... Perché chi sta da questa parte... Come i nostri direttori... Deve amare le persone... Deve avere tanto amore da dare... Sa che le persone che varcano quella porta... Hanno problemi... Esatto... No... Qui non viene gente per passare il tempo... C'è anche chi viene a passare il tempo... Però la maggior parte delle persone... Hanno dei problemi... E quando una persona ha dei problemi... Non è felice... Quando ti danno delle brutte risposte... Ecco... Allora dici... Vado da altre parti... Moriano non trovi... Quello che vorresti... E... Per cui... Cioè... L'approccio... Iniziale è brutto... Se non viene accorto... Infatti... Invece... Se ti danno le gentili... La disponibilità... E ti accolgono... Cioè... Capiscono... Certo... Per cui... Cioè... Quello dell'inizio per me... Ecco... Poi c'è la giusta informazione anche... Che nel momento in cui voi entrate qui dentro... Se non conosciamo quello che usiamo... Anche perché non sono cose che si trovano tutti i giorni... Ecco... Quindi... E' importante... Sapere che cosa stiamo andando a fare... A me mio figlio mi dice... Ma a me è un fatto placebo... Cosa è un fatto placebo... Siete tutti... Avete tutti... Questa malattia ce l'avete tutti eh... Qui dentro... Effetto placebo... Quindi... Siete tutti malati... Lei ha effetto placebo? No... 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 Il sento quell'arbarista... Voi lo ho fatto ufforle... Sto... Vien 자연co... No... Sono venuta da casa... Allora si è andato a fare il massaggio, lui si è messo a chiacchierare con la barista dicendogli vai lì perché lì è così e cos'ha, c'è di tutto e di più che puoi stare bene. Lui davanti a me parlava con la barista e gli diceva questo. Hai capito? E' lì. Ciao dottore, complimenti numero uno. Vuol dire che il suo dottore vuole bene alle persone, vuole veramente bene a chi ha di fronte, a chi ha un problema e capisce effettivamente che cosa magari... Ma non me lo stavo mandando vivo, eh? Eh ho sentito prima la sua testimonianza, adesso basta. E i soldi non mi ho più da spendere, dammi qualcosa, mandimi dove vuoi, si alza, mi dà un foglio di quelli, vai qui, non spendi niente, mi dai che si trova. E poi mi saprei dire, ma non mi aveva mica detto che lui era vero. Giustamente è venuto prima a vedere, ha testato su se stesso, ha visto che funziona... Non dico ma funziona... No, 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 eh, indubbiamente, voglio dire, ci mancherebbe, naturalmente ha fatto la cosa più giusta. Prima ha testato su se stesso, ha visto che effettivamente magari funziona e l'ha consigliato a lei e magari anche a qualche altro suo paziente. Grazie a lui, eh? Oggi sono messa come sono messa, devo dire, faccio un po'. Ah, complimenti. Perché ha saputo indicando il proprio paziente. Bravo, bravo, benissimo, benissimo, bravo, complimenti, signor, un applauso. Un applauso a lei e il fede del cuore. Complimenti. Allora appunto torniamo al discorso che oggi sono dieci anni, sono dieci anni, un traguardo veramente importante. Tante, tantissime persone sono entrate in questo negozio. A tante, tantissime persone siamo riusciti magari a cambiare un po' la vita. Perché magari prima non stavano bene per qualsiasi tipo di problema, anche il più piccolo. Oggi sicuramente vivono una vita migliore. Facendo un massaggio al giorno, conoscendo una realtà che prima non esisteva. Oggi esiste. E c'è la possibilità di vivere meglio, in maniera naturale, che è fondamentale. Che oggi magari un po' ci scordiamo di fare, no? Vivere in maniera naturale. Perché appunto siamo abituati, quando è il momento in cui non abbiamo un problema, ad andare alla cassetta del medicina e prendere la soluzione più rapida e più, diciamo, pratica. Mentre oggi avete la possibilità, si ha la possibilità di risolverle magari in maniera naturale. Facendo un massaggio, bevendo acqua alcalina, dormendo sul materassino. Come è cambiata la vostra vita, eh? Tanto. È un po' duro, è fatto di pietra. Però insomma, dai, vedo tanti bei sorrisi, tante belle facce distese, vuol dire che state veramente bene, eh? E questa è una grande soddisfazione. Appunto dieci anni fa io qui non c'ero. Non c'era. Non c'era nemmeno lui. Però io non c'era. C'era il mio papà, perché è stato lui. Un applauso. Un forte applauso al mio papà, il presidente. E colui che ha creato questa azienda, questa meravigliosa azienda. Però oggi sono qui io, dopo dieci anni. E per me è veramente un grande, grandissimo onore stare qui a fianco a voi e stare insieme a tutti voi in questo giorno così importante. Vedere appunto quello che Aserge fa. E fa veramente tanto. Dare tanto amore e tanto benessere a tante, tantissime persone. Però ancora siete pochi, eh? Dobbiamo essere ancora di più. Tante persone ancora hanno bisogno di Aserge, me lo sapete? Eh? E noi ci siamo. Però c'è tanta gente ancora che ha bisogno. Quindi cerchiamo di far conoscere Aserge. Non ascoltano. Però intanto è importante parlarne. Prima o poi, come ha detto la signora prima, no, non mi ricordo, sì che dopo quattro anni è venuta, voglio dire, il tempo, l'importante è parlarne, entra in testa, entra in testa. E lo so, lo so. Però poi nel momento in cui arrivano i problemi, lì ci dobbiamo un po' guardare intorno, quando appunto, come diceva la signora, il medico ti dice determinate cose, magari ti dice, eh io non so più che cosa fare, eh signora ci devi convivere con i tuoi problemi, io non so più che cosa fare, e beh, là bisogna poi guardarsi intorno, no? E magari scanto a quella cosa, forse mi avevano parlato di Aserge. E magari arriva il momento giusto. Perciò l'importante comunque è parlarne. Poi sicuramente il ritorno ci sarà, figuriamoci. Eh? Ecco. Allora io vi presento mio marito, che insieme a me, insieme a mio fratello, insomma, portiamo avanti quella che è l'azienda, portiamo a quello che è il sogno di mio padre e spero che lo facciamo nella maniera giusta. È quello che spero. Quindi vi presento anche lui, mio marito Mauro Catardo. Buonasera a tutti. Per me è un grandissimo piacere oggi stare qua, per noi siamo felicissimi. Faccio innanzitutto i complimenti a tutti voi, perché se state qui oggi è perché avete scelto magari di vivere, come dice il direttore, quello che vi resta da vivere in maniera migliore. E questo è quello che chiaramente vi auguriamo noi tutti i giorni. E come ben sapete mettiamo a disposizione, a vostra disposizione, a disposizione di tantissime persone, le nostre attrezzature. Prima avete fatto un applauso fortissimo per i direttori, adesso tocca a me la parte azienda, sono convenzionato, parte azienda, parte azienda a dire grazie per questo meraviglioso percorso di dieci anni, fatto insieme. Sono momenti, si passano momenti veramente bellissimi insieme, si impara a conoscere un po' lo stesso percorso che avete fatto voi con loro, l'abbiamo fatto anche noi, anche se a distanza. però veramente voglio dire che siamo onorati di avervi nella nostra grande famiglia, siamo felicissimi, vi diciamo ancora grazie e un altro po' a fare un'altra parte. Allora, scusate, Francesco, parla tu che vuoi andare a parlare Francesco. Allora, come tutti sapete, abbiamo fatto una piccola gara, chi è che lo sa? Sulle mani. Aspetta, che Francesco ti ha detto le parole. Ah, va bene. che è che lo conosce? Francesco? No, ma non ci va più. Non ci va più. Grazie a tutti, grazie a tutti. Bravo! Questa signora, no? Conoscete questo signore? Certo! Sapete che è stato lui che ha aperto questo neosco? Io non c'entro niente in questa cosa. No, no, non c'entrava niente davvero. Posso dire, le chiedo, le posso dire una grande bugia? Quando ha aperto questo negozio, il figlio, il direttore gli ha aiutato e lei, no, no, lavorava, lo spassava, lo portava via le macerie. Sempre portato via le macerie. Non ho dei valori, è la fresca. Però ha cambiato idea. Eh sì, dopo non le volevo più sapere. Io non dico mai le bugie, ho sempre detto che io all'inizio ero la persona che ci credeva di meno al mondo. E quando mio socio ha aperto il negozio, io e mio marito hanno detto, tu vai, perché tuo papà e tuo papà. E i genitori non si abbandonano, perché la famiglia è sempre la cosa più importante. Però dicevo, io però a fregare la gente non ci vengo. La verità è stata quella. È stata così, eh. Cioè, per chi lo sa, lo sa, ma per chi non lo sa, all'inizio, è stata molto dura per noi. Perché? Mio marito non era d'accordo. Mio suocero non ha mai ascoltato nessuno. Lui quando dice di far qualcosa, prende, va, e non gli interessa niente. Dice, se io lo voglio fare, bisogna farlo. Ma poteva ascoltare lei? Che diceva tutto? No, ma io non ho fatto l'alto. Sì, sì. Sotto sotto parlava, lo sopporto. Sotto sotto. Sapete, ora, siamo adesso. Cosa vuole? Ma, qua, 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 qua. Sapete la verità? No, non lo sappiamo. Vedendo ciè la cessione. Chi? ci mettiamo sceduti? si dopo facciamo una tappi che ha lasciato la sigla lì allora, quest'anno voi lo sapete che di solito per le nostre feste facciamo qualche garettina allora quest'anno ne abbiamo scelta una un po' più bella più bella l'anno scorso è insuperabile però quest'anno abbiamo deciso di farvi scrivere delle lettere e queste lettere sono state votate il mese scorso quindi oggi ci rimane solo da proclamare i vincitori dei vincitori su 4 ne mancano 3 su 4 che hanno vinto ne mancano 3 eh, un'è quella allora, quindi io farei io farei venire qua la persona che l'unica che c'è adesso è partendo da quello quindi posso chiamarla Paosta che si è giudicato il secondo premio allora intanto Paosta le diamo il premio e la medaglia grazie a tutti non le dati che vi facciamo sul serio ecco c'è un finta quanti punti quanti punti ha avuto di sicuro tutti quelli del primo turno allora adesso però Paosta ci legge la lettera sì, sì, sì allora erano anni che transitando con l'auto in via Canalazzo verso le 8 e le 15 del mattino vedevo tutti i giorni un gruppo di persone davanti al numero civico 49 e mi chiedevo che cosa mai ci fossessero lì ma la curiosità non era tale da farmi vincere la pigrizia e la timidezza ed entrare per capire che cosa aspettavano di così importante tanto da appostare il freddo gelido dell'inverno col torino e apposo caldo dell'estate un giorno finalmente parlando con la mia parrucchiera di un dolore a Cocci che mi affingeva da un po' di tempo Michela mi ha parlato di Asia e dei benefici che aveva avuto frequentando questo negozio tanto da stimolare la mia attenzione tornando a casa infatti la curiosità è cresciuta a dismisura tant'è che ho girato l'auto verso via Canalato e vincendo la mia timidezza sono entrato un po' di tuvante nel negozio Asia era il 10 febbraio 2018 più o meno un anno fa e subito sono stata accolta da Elena che mi ha illustrato il funzionamento del lettino da massaggio a raggi intrarossi i suoi benefici e le regole per provarlo limitatamente e gratuitamente seguita poi dalla testimonianza di Maria Rosa che frequenta il centro da circa tre anni descrivendo una serie di miglioramenti alla sua schiena dolorante una delle funzioni di Eter e Andrea titolari e direttori del negozio ed Elena e Cinzia loro collaboratrici è proprio quella di stimolare le persone che frequentano questo negozio a comunicare la loro testimonianza e di fungere come una sorta di collante ascoltando la loro realtà interna si ridà fluidità ad una storia di salute laddove quella si era cristallizzata ed è questo penso che sia uno dei punti di forza di questa piccola ma significativa realtà è iniziata così la mia esperienza in Asia giorno dopo giorno ho imparato a conoscere tante delle sue indefinite potenzialità come quella che bevendo acqua iodizzata alcalina si aiuta l'organismo a prevenire e curare patologie importanti e quella che un ionizzatore per ambienti non è altro che uno strumento elettrico in grado di generare ioni negativi che migliorano la qualità dell'aria negli ambienti chiusi ma anche che il biomagnetismo aiuta a ricaricare e rigenerare le cellule prive di forza vitale e che esistono i biofotoni una fonte di luce per stimolare la microcircolazione e la rigenerazione dei tessuti anche se la mia cocigodinia continua a persistere mediante l'utilizzo sistematico del materassino e del lettino per massaggi ho comunque riscontrato diversi benefici i quali pur non essendo eclatanti come altre testimonianze ascoltate vanno dall'illuminazione delle tensioni muscolari l'attenazione del dolore alla schiena causata da una stisi congenita e dalla diminuzione del dolore alla spalla ma soprattutto soffrendo di una displasia migliorare cronica sto cercando di migliorare la fidabilità dei valori immunologici ovvero di rafforzare il sistema immunitario e di stimolare il metabolismo in questo senso qualche piccolo risultato ho potuto ottenerlo e mi auguro che tutto questo possa contribuire a regolarizzare l'equilibrio biochimico delle cellule e ritrovare il benessere fisico ma è un processo che richiede tempo e pazienza d'altronde si sa che il futuro è qualcosa che ciascuno raggiunge alla velocità di 60 minuti all'ora qualunque cosa faccia chiunque sia sono andata così ad accrescere il numero di persone che aspettano al mattino presto di entrare in Asia per fare il primo turno di massaggio e ho potuto conoscere Aldina Anna Cristina Domenica Giuseppe Giuseppina Laura Marcello Maria Maria Rosa Marinella Marisa Miranda Roberto Teresa Valeria e altre persone ancora che conosco meno o che non conosco il nome la vita è fatta di incontri tra le persone ci incontriamo continuamente con gli altri ma spesso non ci fermiamo a riflettere sulla spontaneità e sulla ricchezza di questi contatti e anche se durano pochi istanti ciascuno di questi incontri ci arricchisce e ci fa crescere in ognuna di queste mattine piccole ho conosciuto persone che mi hanno aperto un mondo fatto di cose semplici che mi hanno reso partecipi dei loro pensieri della loro vita che mi hanno insegnato a fare i cappelletti romagnoli o a ottimizzare il lavaggio di panni lavatrici cose semplici che incontriamo quotidianamente ma di cui spesso ci dimentichiamo perché la cultura contemporanea sempre più si lascia a magliare dalla complessità dei sistemi e dalla leggerezza delle realtà di attuali e così me insieme cresciamo in questa esperienza e quelle cose che in principio mi sembravano strane sono diventate la mia normalità per concludere non posso non salutare il numeroso l'ariegato mondo adage augurandogli anche a nome degli ospiti del primo turno un sentito salute sì salute sì se dimenticate se mi ha chiesto cosa fanno lì e io gli dissi gli danno la tredicesa grazie 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 in terzo posto noi non abbiamo chi ha scritto la lettera ma abbiamo l'audio quindi se voi la volete sentire ve la faccio sentire sì 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 una magia chiamata lettino sono trascorsi otto anni o forse più da quando amici di famiglia mi raccontavano di questo magico lettino sul quale ti straiare per farti massaggiare a conoscenza dei miei storici problemi di schiena mi dicono perché non vai anche tu a provare fidati che oltre essere piacevole funziona anche ed è tutto gratis vuoi perché la parola gratis per come la conosciamo spesso ne scordi delle insiste o vuoi perché le cose nuove ed esotiche spaventano decido che ancora per me non è cosa faccio passare ancora un po' di tempo solo 4 anni e parecchie partite racchettone la mia schiena nel frattempo ha iniziato ad odiarmi davvero ed ha deciso di abbandonarmi almeno una settimana sì ed un'altra pure per poter stare in piedi con decoro bevo occhi come si beve la birra al mare d'estate decido quindi che è giunto il momento di fare qualcosa di intelligente e utile per salvare il salvato ma cosa fare fisso che se vado da un medico mi piomba con altre medicine di cui mio fegato ormai ha già fatto in piedi sempre più che ho dato un giorno incontro per caso Rosetta la cugina di mia mamma che mi dice vado in un posto dove ti fanno sdraiare sul lettino ma assaggiare che ti la trista e ti fa stagliare se esiste un dolore Rosetta ce l'ha e lui se lì dice che funziona è sicuramente vero dopo 4 anni e tanti anni dolorifici decido che è ora di fare il passo di andare a provare questa asigena così si chiama è il 4 di dicembre e Rosetta mi ci accompagna entriamo a prima vista penso ma dove mi ha portato ormai anche se volesse tentare la fuga sarebbe troppo tardi mi fa un sedere in una delle tante sedi di stile della stanza stretto tra Rosetta e Cinzia la quale brandisce il microfono dice a tutti che sono nuovo ho un po' paura oddio e ora che succede fra i seduti pago un decano qui ci vuole con stanza per avere i risultati e bla 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 bisogna venire tutti i giorni e bla 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 ho sempre paura poi ci si alza si battono le mani e si urla qualcosa tipo salutesi tutti si muovono velocemente verso l'altra stanzona che assomiglia a tutti i torni a lei ci siamo Cinzia sempre molto professionale e garbato mi fa straiare con cautela sul ventino dei miracoli è caduccio che in un rullo duro come poche altre cose il mondo mi si pianta proprio dove non vorrei dopo venti minuti di lettino tra lacrime e momenti meno drammatici ogni tanto la pietà si ferma capisco che per i primi tempi sarà dura ma gli voglio già meno da questo nostro per incontro scontro sono passati quattro anni la mia schiena trova aggiungamento quasi solo facendo il massaggio la mia mia aiatale mi reflussi ammessi ormai scomparsi grazie all'insostituibile acqua alcalina ionizzata i miei piedi ora caldi e comodi con le fantastiche solette e le fasce autorescaldanti che mi raddrizzano spesso e volentieri e potrei continuare perché Asagel anche se è un'azienda sembra che si sia presa a cuore tutto il tuo star bene e non solo le schiene Asagel per me è diventata come un'isoletta in mezzo al mare in cui trovare un po' di ristoro uno stacco di un'ora di pace e tranquillità dopo gli stress della giornata col tempo su quel coso duro ci puoi perfino addormentare tutto questo e un po' d'altro mi permette di continuare a fare cose che avevo dimenticato prima di entrare in questa gabbia di matti ovviamente non si vuole la presunzione di sostituirsi in medici semplicemente nel nostro piccolo si cerca di migliorare e di crescere un pochino aprendo la mente anche alle altre cose più esotiche come in tutti i rapporti anche qui alcune volte si possono avere differenti visioni e di idee ma è giusto così il futuro qua dentro che sono certo mi riserveranno ancora altre magie se ad ascoltare tutto questo fosse uno spettatore esterno molto sentimentale potrebbe sembrare una strana dichiarazione d'amore mentre qualcuno più razionale semplicemente pubblicità nulla di tutto ciò asese se la vivi con costanza avere un po' di convinzione come diceva con il decano del primo giorno è semplicemente tutto quello che ho scritto tutto questo ottimismo ad oggi mi resta solo il piccolo rimpianto di non essere riuscito a portare almeno la metà delle persone a cui l'ho detto sono sicuro che ora mi resta le problemi famigliasi di riuscire di ravella e voglio bene 1, 2, 3, 4, 5 salute sì Franco questo signore ha vinto il secondo premio il terzo premio il secondo la pausa io lo sa che sono molto calore dunque sono sempre caldo non l'ho mai preso e quanti anni ho lottato che mia moglie è sempre presa per farmi prendere il materassino è contento perché Francesco quest'anno è riuscito a convincere sua moglie a prendersi il materassino dopo anni dopo anni di discussioni allora il primo premio aspettiamo che arrivi perché deve venire quindi così avrà sorpresa anche lei quando entra va bene? non ve lo dico però c'è anche il premio della critica che è un premio speciale e anche qua non c'è ma abbiamo l'audio quindi vi faccio sentire anche questo che è forse più bello che almeno ve la legge lei e poi dopo facciamo ritirare il premio alla Miriam niente glielo spiego dopo siete pronti? questa è bellissima niente io l'ho scritta e la dico sono molto soddisfatta mi stavo venendo a piantere mi chiamo Arianna sono una ragazza di 46 anni a breve con più gli anni due volte se vi devo dire la verità la prima volta è quando sono nata e dicono il 18 gennaio del 1973 la seconda proprio qui il 12 gennaio 2012 sono arrivata portata da amici carissimi di famiglia a riscrivere un mondo nuovo un fatto di lettini massaggianti gratuiti già l'idea di associare un bel massaggio alla parola gratuito mi piaceva ed effettivamente qui ad Asagen ho trovato un piccolo mondo aggiunto è bello trovare un ambiente dove ti trovi a casa dove c'è calore attenzione amore e si sente si tocca nell'aria ogni persona trova un compagno con cui compividere un dolore una malattia che a volte è difficile soffrontare da Asagen sai che ci sono persone come te che inseguono il sogno di stare bene e non perdono un grande vita una famiglia che ti accoglie anche se sei un estraneo ti pone bene e ti aiuta a stare bene chiedendoti solo e sottolineo solo in un tempo dove il tempo è denaro un po' di tempo per te senza altre motivazioni nascoste ho conosciuto persone di cuore quando il cuore in questo mondo non ha più valore Andrea, Ete, Cinzia, Elena persone di cuore come le pate che vogliono proteggere dal malo cattivo che ti fa ammalare lo fanno col sorriso con una sincera voglia di aiutare sono tutti lì per ascoltare un piccolo mondo antico Asagen dove il tempo sembra essersi fermato dove non esiste la vecchiaia dove esistono persone che si vogliono bene che desiderano vivere bene in salute ho sempre pensato che i vecchiari vuole sentire stare male avere mille dolori e non poterci fare nulla non è così da Asagen la vecchiaia non esiste Miriam è la donna che con la sua vitalità la sua gioia il suo calore è di sempre una ragazzina e altri che ho conosciuto mi hanno insegnato che la vecchiaia è solo una parola ma che scegli tu come me vederà sono entrata in Asagen furba sui miei problemi ansiosa per tutto ora dopo sette anni di cura Asagen sono nuova amo la mia vita non esistono problemi che non si possano risolvere esiste il bene non conosco più medicina da sette anni insegnando ai miei figli avere l'acqua di Asagen ad usare il progettore la copertina l'urionizzatore mi auguro che Asagen in questo piccolo mondo antico possa essere conosciuto da qui per chiamarsi e stare bene ma insieme arrivi adesso adesso se chi ha rinto il primo premio arriva in orario decente bene altrimenti prima scelta no l'Ariana non viene ma anche il primo premio però non è ancora è una donna vi dico vi sveglio già è una donna e non è ancora arrivata quindi se arriva in tempo utile ve lo facciamo leggere e la premiamo altrimenti lo scoprirete solo vedendo il picossio lunedì che numero è? questa? quella che ho appena letto allora mi chiedi volevo farvi una sorpresa vabbè allora la leggiamo e via dai perché la sentite tutta la sentite tutta da un po' che sono tutte le stelle io non so allora quella che ha vinto il primo premio è la numero 9 avete già capito? no no mi chiamo Antonella nel 2006 ho iniziato a avere i primi problemi alla schiena con diagnosi sempre diverse quindi ho iniziato piano piano a curarmi con i soliti farmaci fino ad arrivare al 2013 con poche di medicine sempre più forti con la conseguenza che peggioravo e mi indossicavo fisicamente e mentalmente ero distrutta mi vestivo stando seduta non riuscivo più a dormire a camminare e a lavorare nel 2013 ho fatto un intervento al ginocchio e tornata a casa dall'ospedale magicamente non sentivo più dolore in nessuna parte del corpo stavo bene una sensazione bellissima che mi ero dimenticata degli anni quindi mi son detta beh allora il problema è la postura sbagliata datami dal ginocchio dolorante questo oblio però è durato solo un mese perché era di peso dai postumi dell'anestesia praticamente questa signora ha fatto un'anestesia e ha toccato dei nervi e per un po' non ha sentito più dolore dopo un mese le è passato l'effetto dell'anestesia a questo punto beh questo oblio è durato solo un mese per entrare di peso dai postumi dell'anestesia passato questo tempo il dolore è tornato anche più di prima a questo punto non sapevo più cosa fare consigliata da mia figlia sono entrata dentro questo negozio ero triste amareggiata arrabbiata sono stata accolta dal direttore Andrè e dalla direttrice poi da Elena e Cinzia molto gentili fin da subito con una grande umanità e interessandoci del mio stato di salute mi hanno incoraggiato ad aver fiducia nelle attrezzature asige ho iniziato ogni giorno a vartare questa soglia per mesi che sono poi diventati anni ascoltando le persone che raccontavano i loro miglioramenti sperando che presto sarebbe capitato anche a me nel frattempo ho usato tutto quello che offre asige con costanza e pazienza oggi posso dire che non sono guarita ma sto bene ed è tutto sotto controllo sono tornata a fare tutto quello che facevo prima naturalmente dipendo dalle attrezzature e soprattutto dal materassino che è diventato un appendice del mio corpo questo negozio per me rappresenta una rinascita fisica e mentale sento di essere una persona migliore ho imparato tante cose ma soprattutto come vivere meglio e come essere ottimista per il futuro mi auguro di vivere ogni giorno come si presenta perché adesso so cosa fare e do tanti aiuti ringrazio infinitamente i direttori che sono persone meravigliose faranno sempre parte della schiera di persone a me cari di famiglia grazie io vorrei che vi accorgeste di quanto siamo fortunati tutti che in un modo che in un altro essere entrati in questo negozio perché questo negozio voglio dire per almeno il 99% delle persone che ci sono è stata una vita nuova io vorrei che alzasse la mano chi non è cambiato da quando è entrato qua cioè questo è il significato degli anniversari dei negozi altri io tanto l'avete visto sono due settimane che tutti i giorni vi dico vieni alla festa vieni alla festa ci vedete alla festa quanto è importante questa festa cioè rincontrare e riunire tutte le persone che sono diventate persone nuove persone diverse persone migliori grazie a queste ma io non voglio dire a queste persone a queste attrezzature a questo posto al gruppo che si forma qui dentro io l'ultima settimana non c'ero ma ho incaricato l'edit la signora ha detto abbiamo sentito l'accomandante però hai fatto una grande cosa se non lo sa la gente è andato a Modena perché il negozio di Modena sembrava più d'esse hanno tentato lui e Eter si sono sostituiti una settimana una settimana l'altra a vedere se poteva riprendere i risultati non li sappiamo ancora però li impareremo bravo per finire va a Eter la prossima settimana vero che c'è per finire va a Eter la prossima settimana allora quando si parla di famiglia e amore famiglia e amore cosa vuol dire? aiutarsi voi vi aiutate fra di voi quando la mattina arriva qualcuno che non avrebbe voglia di venire voi insistete devi venire devi continuare non smettere e noi facciamo quello che possiamo anche noi perché se ci crediamo ci dobbiamo tenere davvero altrimenti faremo finta e se noi facessimo finta voi bene sareste già forti presumo yes visto che ringrazio il signore che ha sottolineato questa questa cosa che per noi ovviamente dal punto di vista aziendale è stato molto bello no? perché in un momento di difficoltà avere delle persone che si prestano è sempre un segno è un segnale di quello che abbiamo fatto nel passato è stato riconosciuto nel momento in cui magari c'è da dare ci si fa trovare disponibile e si risponde presente quindi adesso io chiedo anche a voi un aiuto umilmente visto che Andrea ha già dato andrà la settimana prossima dopo la direttrice toccherà a me andare a Modena quindi io chiedo l'aiuto a voi di aiutarci a far sì che nel vostro piccolo per le vostre conoscenze che potete avere sulla piazza di Modena ricordare che anche lì esiste un negozio ASGEM in perfetta efficienza e quindi tutto quello che possiamo fare qui lo possiamo fare in ogni città dove è presente un negozio ASGEM quindi vi chiediamo ufficialmente aiuto per poter far sì che anche i modenesi abbiano l'informazione che è il negozio attivo posso aggiungere? certo anche i ravenati che non lo sanno ancora sì bene no è super bene avete nemmeno in casa i tempi che venivo io aveva messo un librone ah oramai l'avete ancora ma io dico presentateci quello Modena e se leggono tutte le pagine che ci sono capiscono che bella che bella cosa che è quella c'è un piccolo articolo anche mio o c'è lo faremo allora prima di ringraziare tutti vorrei chiamare una persona che è l'ultima che manca Antonella benvenuta è però solo lei e veramente lo stavamo aspettando tutti perché la collettora è quella che ha vinto il primo premio abbiamo già letto è uguale a tutte quelle che abbiamo scritto tutti solo che abbiamo espresso il pensiero diversamente ma tutti la sostanza è quella detta diversamente però ecco teme anche che portano poi le incomprensioni raccontano la fatica perché comunque star bene è faticoso perché quando arriviamo qua bisogna può mettersi l'impegno entriamo a far parte di un mondo diverso e ragionando diversamente vediamo le cose diversamente e la forza di andare avanti perché tutti insieme si va avanti meglio io lo so aspettando direi che si dà che non si è raggiunto di più grazie a lei allora io volevo salutare che ci sono qui con noi i direttori di Caenza e di Corlì che magari non conoscete qui vicino grazie i direttori noi siamo i nuovi direttori di Caenza mia moglie conosce Asigen da 4 anni io da un anno scarso quindi è bello venire in questi compi anni perché innanzitutto sento più testimonianze mi rendo conto ancora meglio in che mondo sono entrato cioè qual è Asigen già l'ho conosciuto moltissimo aspettando un negozio di Faenza e venendo qui soprattutto in un negozio che è aperto da 10 anni che ha una grandissima storia è bello sentire per quanto le testimonianze e anche mi è vissuto molto in un concorso che avete fatto delle testimonianze adesso magari ve lo faremo tantissimi euro io sono la Rosella sono sua moglie sono sua moglie è una persona confusa si ha stato con lui no vedete com'è vestito già questo vi deve dire un attimo com'è la situazione a Faenza quando io entrai in Asia già ormai 4 anni fa lui lo sapeva che cosa diceva di Asigen ma cosa vai ancora in quella setta oggi ci sei andata anche oggi guarda che non è una setta è un posto in cui comincia a stare bene vuoi venire dopo lui vabbè faceva un lavoro un po' particolare che non aveva il tempo pratico per venire e pian piano mi ha visto stare sempre meglio pian piano ha portato a casa un po' i prodotti e lui sportivo non riusciva a più a parte dopo quello che doveva fare doveva un ginocchio e mi faceva cilecca allora faccio mettici sopra la copertina sei solo te che credi a queste cose allora ma tu provi finché forza di darci aspetta le mogli e alla fine sì sì no le mogli di più perché se no non ce la fanno con voi e alla fine alla fine lui cosa fa ma lo sai che funziona e io voilà non l'avrei mai detto e dopo da lì è venuto tutto il resto e alla fine un giorno arrivo a casa e gli dico scusa ho una proposta indecente da farti e lui subito e fai stasera e faccio no mi hanno proposto di diventare nuovi direttori di Asia Gianfaenza ti va e lui oh sì e lui anche per te mi hai toccato casa le fasce e poi mi fai ah c'è una copertina va bene e poi mi sa guarda c'è questa bottiglia d'acqua senti com'è adesso bravo mi sciacco di lavaticio vabbè il giorno dopo due settimane dopo ritorno occupando gli organizzatori vabbè poi arriva fa ti andrei a presentare il direttore di Asia tanto mai siamo circondati e così ecco ecco il nostro che fa di aggionalizzazione salve a tutti io sono Elena appunto l'editrice di Forlì qualcuno di voi l'ho già visto più e più volte e poi come diceva prima Etel siamo tutte una grande famiglia quindi è veramente importante essere consapevoli di quello che si fa giornalmente quotidianamente per la propria salute ma essere anche presenti in una giornata come questa perché le testimonianze di ognuno di voi vedervi anni fa e vedervi oggi vedere i cambiamenti che avete ottenuto anche soltanto essere più positivi e essere solari anche quello è già una grande vittoria perché le cose comunque cambiano e cambiano in meglio quando si è tutti uniti perché ovviamente quando ci sono delle problematiche dei pesi essendo in tanti un pezzettino a testa fidatevi che il peso non è così così forte così grave e basta io sono contenta di essere qua sono contenta che siete sempre più numerosi vi saluto continuate a volermi bene continuate a essere presenti a divertirvi in questo perché poi è una grande festa sempre ancora di più quando sei così tanti sei in famiglia grazie a tutti buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata direttore di Forlino che è marito di Elena Eter mi ha già detto che devo parlare poco sa che sono un ragazzo timido quindi se non avete domande da farvi mi avete io ho tutta la giornata grazie a parte questo volevo più che altro augurarvi veramente tanta salute sono contento di vedere così tanti volti sono contento di vederli sempre più giovani non so se vi cambiate perché non riesco a riconoscermi tutti però mi vedo belli si vede dall'espressione e voglio ci stava guardando soprattutto al direttore perché il direttore dice poco ma oh no ma è tanto non posso cambiarla non mancerò però tanta roba abbiamo imparato tanto da loro spero anche voi sono contento di vedervi così numerosi che sta trattando di più direi così allarghiamo la famiglia auguri auguri se qualcuno vuol parlare parli ora o tanti anche se adesso ci dà un attimo che tiriamo fuori un po' le 10 ora mangiare qualcuno vuol parlare anche la grande mi dispiace cedendo per i direttori che sono presenti io ho scontrato che c'è la spiegatura io sono due anni che ne vedo per studiare la spiegatura e c'è mi dispiace la spiegatura è quella di non frequentare l'agite grazie a tutti questo è il famoso lettino di cui si parlava ecco i tre rossi ce ne sono uno due tre quattro cento sette otto nove dieci undici dodici e sono quasi sempre pieni questa è tutta gente che viene qui c'è anche gente di là un po' allora tu marisa sei quella che mi ha parlato di Asia c'è ma c'è ventina che aveva fatto con te venga venga io mi sa geliamo un po' mi sa geliamo un po' anche la gara mi sa geliamo un po' mi sa un po' guarda avanti fino a che mi comprerò anche le cose e mi faccio un po' di soldi mi comprerò l'acqua e tutte le cose che ci sono mi sa geliamo un po' guarda come si sta scaricando la battita è proprio sul tuo riso ma riso ti bacio allora grazie